Abbiamo con noi Consuelo Battistelli e Laura Raffaelli che hanno partecipato al convegno di cultura senza barriere dell'Università di Padova alle quali faremo alcune domande per appunto continuare con la loro testimonianza. Consuelo, tu sei una donna cieca, una donna lavoratrice. A te vorrei chiedere innanzitutto come sei riuscita a far sì che la tua cecità non ti impedisse l'attività lavorativa e come sei riuscita anche ad affermarti nel lavoro perché ci spiegherai, fai un lavoro anche di un certo tipo. Ti passo il microfono. Grazie. Io mi occupo di accessibilità, sono consulente di accessibilità nel public sector di un'importante multinazionale posso fare tranquillamente il nome IBM Italia. Arrivo da un percorso di studi che non è prettamente informatico anzi andavo in tutt'altra direzione. Però l'opportunità che mi è stata offerta e che ho cercato, che ho cercato è la parola giusta e mi è stata data da IBM ritengo sia una possibilità importante. Importante come persona in primis e come persona disabile, come cieca perché comunque sono molto sincera, ho cercato delle strade alternative alle classiche professioni che un cieco è portato, meglio è costretto in Italia a fare. Anche perché sono professioni che stanno scomparendo. Alludo al centralino, è inutile che ce la raccontiamo ma ormai è tutto centralizzato e quindi risulta esclusivamente un posto per scaldare la sedia in molti casi. Quindi pur non avendo delle competenze specifiche che comunque mi sono fatta con il tempo, con l'esperienza, con l'impegno e con la volontà di portare avanti altre situazioni e altri progetti, sono riuscita, nonostante le difficoltà perché le difficoltà anche nell'accedere ad un lavoro di questo tipo non sono banali. applicazioni non accessibili, strumenti non accessibili, un luogo di lavoro non accessibile. Comunque tutto, diciamo, più o meno tutto rientrato informando e dichiarando il proprio Stato. Ti ringrazio intanto per la testimonianza. Ti chiederei anche se hai qualche consiglio, tra virgolette, se così vogliamo chiamarlo, per i nostri lettori, per le persone che alle volte si trovano veramente impossibilitate o pensano di essere impossibilitate a inserirsi nell'ambito lavorativo. Più che consiglio io parlerei di determinazione e di volontà. Che questo penso sia a prescindere dallo stato di cecità o meno è proprio una questione caratteriale. Io ho voluto perseguire un obiettivo, non intendo con questo dire che l'obiettivo della mia vita sia iniziato e sia finito con l'IBM, con quello che sto facendo. Per carità me ne guardo bene, spero di fare ben altro nella vita, molto di più. Però ho voluto questo e l'ho ottenuto. L'ho voluto prima con un percorso di studi specifico che io ho scelto. Ho scelto cosa fare e dove farlo. E l'ho scelto poi conseguentemente a Roma lavorando per questa azienda e vivendo in una città che non è la mia, che mi dà tante difficoltà in cui sono sola perché la famiglia se ne guarda bene da lasciare a Mantova, giustamente, e giustamente per il caos e per altre abitudini di vita, chiaramente. E quindi non ho particolari consigli se non quello di seguire la propria volontà e la propria determinazione, che penso che siano gli strumenti fondamentali per superare anche la disabilità. Adesso vorrei chiedere a Laura, a Raffaele, appunto riguardo anche il suo, in questo caso non lavoro. Durante il seminario hai detto di non lavorare, vorrei sapere se non lavori perché non hai trovato la possibilità e il modo di farlo. Però altrettanto so che sei estremamente impegnata con la tua associazione Blind Sight Project e vorrei che tu ci parlassi di quelli che sono i tuoi progetti attuali, i vostri progetti attuali e quali sono gli obiettivi che intendete perseguire. Ti passo il microfono. Grazie. E no, non lavoro più perché non posso lavorare. Facevo un lavoro che mi obbligava e mi vedeva alla guida, quindi ovviamente non posso più guidare, potrei farlo in altri modi, ma poi alla fine ho anche 49 anni, quindi ho perso la vista a 43 anni. Non era un'età in cui hai un futuro davanti lavorativo. A 43 anni il lavoro ce l'hai e quindi nella mia situazione con un incidente praticamente finito ho fondato questa associazione per reagire sinceramente innanzitutto ad una serie di cose che appunto, come dicevamo prima nel seminario, c'è tanta disinformazione, c'è tanto vuoto di informazione spesso e quelle poche cose che vengono dette spesso sono anche fuorvianti perché non c'è mai questo scambio di opinioni diretto poi, come ad esempio è successo poco fa nel seminario che abbiamo tenuto io e Consuelo. Queste domande, questo scambio di informazioni è molto importante e quindi la nostra è una disabilità, forse è molto drammatica. Io sinceramente non l'ho superata, forse non la supererò mai, non mi posso accettare, non ci sono nata. Ho cercato però di reagire e questa reazione è tutta nella Blunt Site Project che è questa Ollus fondata online anche per essere accessibile a tutti e soprattutto anche per abbattere una serie di costi perché considerando i tempi di crisi è inutile aspettare quattro anni per avere, che ne so, 5.000 euro per fare un evento. Io in quattro anni voglio fare tanti eventi ogni anno e si possono fare, esiste il volontariato noi lo facciamo sul serio, anche Consuelo è entrata nonostante l'IBM, è entrata a far parte Sì, no, nonostante l'IBM perché lei è impegnatissima e io del resto mi sono impegnata tantissimo con questa associazione. Seguo anche la sicurezza stradale e collaboro con una grande associazione per la sicurezza stradale che è l'AISF e perché comunque sono una vetema della strada. Purtroppo siamo 40.000 l'anno di disabili gravi per incidenti stradali. Mi trovo nella disabilità e quindi i nostri obiettivi nella Blunt Site Project quali sono? Sono l'accessibilità per tutti indistintamente. Lo dico per il ragazzo che ha l'età di mio figlio, ha di 24 anni, che io sono rimasta con una pensione in attesa di risarcimento, nonostante ciò lui paga le tasse all'università, si deve mantenere, deve trovare il suo lavoro perché prendiamo 1000 euro al mese ed è difficile mantenere la vita di una persona disabile nelle mie condizioni e quella di un figlio di 24 anni all'università. Quindi sono delle realtà molto italiane, sono queste realtà made in Italy, questi prodotti dalla strada, quindi dalla strada nel vero senso della parola perché è dalla strada che nasce tutto questo, nel senso che io vengo investita, perdo la vista, perdo metà dell'udito e mi rendo conto e scopro un mondo che pur essendo una persona molto sensibile e molto attenta prima, io non conoscevo che è quello delle disabilità sensoriali perché visivamente siamo tutti abituati ad un logo. Il logo universale della disabilità è una carrozzina e il disabile se non sta in carrozzina non ha bisogno di niente, neanche, non ha neanche una serie, non si può catalogare, nessuno sa comportarsi con noi ciechi. Quindi io mi sono trovata in un attimo in una dimensione che, scherzando, io chiamo il mondo di Quark perché veramente entri nel mondo di Quark e io ho anche metà dell'udito che manca e quindi si scoprono tantissime cose. Si scopre anche che c'è tanta disinformazione e che spesso tanti ostacoli, le nostre più grandi barriere sono legate ai pregiudizi e alle barriere mentali perché purtroppo è stato fatto un caos, come dicevo prima nel seminario, riguardo anche al come chiamarci. Se qualcuno sull'autobus mi vuole dare una mano, spesso non me la dà perché ha paura che dice se la chiamo cieca forse si offende, se la chiamo non vedente forse è meglio, no forse è meglio videolesa. Tutto questo political correct andrebbe eliminato. A volte non ti chiamano proprio e parlano con la persona che magari ti sta a fianco perché tanto, ecco, ti ho apprezzato, lo volevo dire nel seminario perché tanto quella persona ci vede e quindi probabilmente forse la motivazione è